Lili Collins, è lei l'erede di Audrey Hepburn? Un viso d'angelo con occhi sfavillanti da cerbiatta, Lili Collins in pochissimo tempo è riuscita a conquistare il cuore del pubblico internazionale, tanto che in molti l'hanno addirittura definita l'erede della famosa e splendida Audrey Hepburn. Figlia d'arte, la giovane Lili ha iniziato la sua carriera interpretando alcuni ruoli minori fino a raggiungere il grande successo prendendo parte a pellicole di prestigio. Lili Collins e l'eleganza della splendida Audrey Hepburn. Audrey Hepburn è ricordata tuttora come una delle star più amate del cinema internazionale, il suo talento andava di pari passo ad un'eleganza da diva d'altri tempi, che le ha permesso di essere celebrata in tutto il mondo come una delle donne più belle e raffinate di sempre. La giovane figlia del cantante Phil Collins pare che abbia ereditato lo scettro del trono rimasto vacante dopo la scomparsa della Hepburn e sono molti ad aver riconosciuto in lei la stessa grazia. Viso d'angelo, occhi sfavillanti e un fisico snello e minuto, la bellezza di Lili Collins ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. L'attrice ha dimostrato importanti doti artistiche, ereditate probabilmente dal padre, nonostante sia figlia d'arte, la Collins ha sempre dichiarato di voler meritare ogni successo, facendosi forza solo delle sue capacità. I fan si sono innamorati dei suoi lineamenti armoniosi, della pelle chiara e morbida e dei capelli scuri, una bellezza raffinata, meno prorompente rispetto a quella di altre colleghe, ma non per questo meno esplosiva. Lili tra carriera e vita privata. La sua carriera è iniziata a soli due anni, debuttando sul piccolo schermo, ma con il passare degli anni Lili Collins ha intrapreso percorsi diversi, lavorando anche come giornalista in alcune redazioni. Essere figlia d'arte del celebre Phil Collins le ha permesso di osservare da vicino il magico mondo dello show business e di cogliere una serie di meccanismi. La giovane attrice infatti ha ribadito che essere figli di persone famose non garantisca a nessuno il successo, anzi, in quel mondo dorato e sfavillante tutti sono facilmente sostituibili. La sua vita però non è stata solo una scalata verso il successo, la Collins infatti ha confessato di aver vissuto grossi problemi legati ai disordini alimentari, che ha deciso di combattere sia nella vita quotidiana sia sul set. Coraggiosa e determinata, l'incantevole star di Hollywood non ha mai avuto paura di confessare le sue difficoltà, parlando apertamente per sensibilizzare altre persone che hanno vissuto il suo stesso dramma. Bella e gentile, la sua carriera ora sta vivendo un momento molto positivo, grazie alla partecipazione a numerose pellicole e alla consapevolezza di essere diventata una donna più forte, che sfoggia le sue cicatrici quasi con orgoglio. I fan non perdono occasione per seguirla e sostenerla, riconoscendo in lei una nuova icona di eleganza e stile a cui guardare con affetto e stima. Lily Collins, nonostante la giovane età, è una diva d'altri tempi e ha il fascino della gentilezza e della sobrietà, addio agli accessi e benvenuta alla nuova Audrey Hepburn del cinema statunitense. Ciao!